Cambiamo nuovamente settore, andiamo nell'ambito del farma con un assistente virtuale che potrebbe tornarmi utile, dico la verità, perché è di supporto alla lotta contro il fumo. Non abbiamo un ospite ma ne abbiamo due e sono tutte al femminile. Sono con noi Laura Guerra, head of innovation e multichannel marketing di Pfizer e Rossella Lucchini che di Pfizer è la business technology country lead Italy. Benvenute entrambe. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora noi oggi vi parleremo di quella, diciamo che è stata la nostra esperienza, su come abbiamo sviluppato un chatbot per appunto coloro che vogliono smettere di fumare e che noi identifichiamo come un paziente. Paziente in quanto ovviamente c'è diciamo una dipendenza da nicotina. Perché abbiamo pensato di fare questo chatbot? Allora, siamo partiti diciamo da la profilazione di di coloro attraverso una ricerca di mercato ma attraverso anche quelli che sono gli insight che abbiamo avuto tramite la nostra pagina Facebook per poter vedere quali sono i bisogni di chi vuole iniziare questo percorso verso la disossefazione. E ci siamo resi conti appunto che queste persone essenzialmente si sentono sole perché pensano ovviamente che con la volontà basti, la volontà sia sufficiente, per qualcuno sì, per molti altri no e quindi hanno bisogno di maggiori informazioni. Chiedono sempre più informazioni ma soprattutto vorrebbero essere seguiti ma non sanno, in gran parte appunto abbiamo riscontrato, che esistono dei centri antifumo dove ci sono specialisti che aiutano questo percorso, che possano aiutarli attraverso dei processi di tipo psicologico ma anche, questo è il nostro caso anche di interesse, ovviamente anche con dei farmaci. Quindi partendo da questo profilo abbiamo detto cerchiamo per coloro che ovviamente hanno bisogno di questo supporto di aggiungere a quelle che sono le informazioni delle pagine Facebook piuttosto che del sito sulla awareness, diciamo cerchiamo ovviamente di dare qualcosa di più e quindi il chatbot. Allora nel farmaceutico è tutto un po' più complicato perché abbiamo ovviamente grandissima attenzione non solo al discorso privacy e via dicendo ma anche proprio della compliance, noi non possiamo parlare direttamente come azienda farmaceutica ai pazienti, ovviamente della terapia, quindi possiamo rimanere solo a un livello molto alto e quindi cercare di dare del tipo di informazione ovviamente quindi assolutamente non inerente alla terapia ma ovviamente seguite da un team che non è solo tecnico come appunto la collega ma anche diciamo tutta la parte più scientifica quindi clinica quindi medici ma soprattutto compliance e anche il legale. Una volta creato questo team abbiamo raccolto tutto quello che potevano essere i materiali anche col supporto ovviamente della nostra agenzia di comunicazione per creare questo percorso e fornire tutte quelle che erano fra l'altro ricevevamo attraverso gli insight di Facebook quali erano gli argomenti sui quali avevano gli utenti maggior bisogno di informazioni e abbiamo raccolto questo materiale e abbiamo creato un modello che potesse da un lato cercare di dare informazioni di tipo più generale e quindi anche con una geolocalizzazione per far individuare i centri antifumo e dove quindi potevano trovare ovviamente un supporto ma anche cercando di personalizzare ci sono dei test che si fanno normalmente a livello clinico sia sul livello diciamo di addiction che hanno i pazienti piuttosto che di motivazione e quindi sulla base di questo percorso abbiamo creato sei profili diversi che potessero rispondere quindi a diciamo le domande fatte ma anche cercare di mandare delle notifiche in modo che potesse fare questo percorso l'utente sempre accompagnato in modo personalizzato ovviamente abbiamo fatto anche la promozione attraverso Facebook qui che ci ha aiutato ovviamente a diffondere questo tipo di supporto perché appunto veniva ricercato. Rossella vai. Buongiorno a tutti allora io vi parlo intanto brevemente delle difficoltà che abbiamo incontrato durante l'implementazione di questo progetto e poi invece delle soddisfazioni che ne abbiamo tratto quando finalmente siamo riusciti a renderlo disponibile ai pazienti. La realtà complessa di una multinazionale farmaceutica ovviamente non facilita affatto l'introduzione di tecnologie innovative anche per una mancanza di conoscenze interne noi facciamo altro non siamo una società tecnologica per cui ci siamo scontrate fin dall'inizio anche con una poca conoscenza interna di che cosa un chatbot o in generale un progetto di intelligenza artificiale potesse offrire a Pfizer. Inoltre siamo veramente molto strutturati abbiamo team globali sia di marketing che nella parte più IT che sono comunque costantemente coinvolti nell'implementazione di progetti locali per cui l'allineamento con queste strutture ancora per l'innovatività del progetto non ha di certo facilitato l'implementazione e anzi ha rallentato moltissimo la mancanza di procedure globali piuttosto che facilitare dicendo ok non esiste una procedura procediamo o andiamo avanti ha invece rallentato tutto il processo dicendo fermatevi prima le sviluppiamo e poi possiamo andare avanti. Questo poi in realtà ha portato anche dei vantaggi perché le strutture globali si sono in qualche modo allineate a noi e hanno portato avanti queste linee guida che poi sono diventate diciamo istituzionali per Pfizer. Come accennava Laura abbiamo tantissimi vincoli nella gestione della compliance in particolare in tutti i canali di comunicazione che Pfizer apre verso l'esterno ma in generale le società farmaceutiche c'è la necessità di monitorare gli eventi avversi. questo è gestito dalla nostra compliance con una serie di procedure interne molto rigide che però non erano pronte alla gestione del chatbot quindi non esistevano proprio delle procedure che dicessero allora nel caso di un chatbot fai questo monitora così l'evento avverso. Per cui tutto questo ha effettivamente rallentato molto non l'implementazione del sistema perché insomma poi alla fine avvalendoci di centri di centri di eccellenza di partner tecnologici in realtà l'implementazione è stata anche abbastanza semplice ma l'introduzione di questa tecnologia all'interno di Pfizer è stata veramente complicatissima. La soddisfazione che ne abbiamo tratto però ovviamente è stata molto grande perché siamo stati riconosciuti come pionieri in questa area e il nostro progetto è stato presentato a livello globale e ha poi aperto anche la possibilità di crearne altre sulla stessa falsariga e di sfruttare queste procedure che nel frattempo erano diventate patrimonio comune dell'azienda per lo sviluppo di progetti simili anche in altri paesi e l'ultima soddisfazione è che alla fine ci hanno riconosciuto dei finanziamenti aggiuntivi per continuare a promuovere questi progetti e ovviamente una forte collaborazione cioè questo ha creato anche un forte legame fra il dipartimento IT che solitamente è sempre un po' esterno è un po' separato dal resto dell'azienda che fa altro e i team di marketing. Allora per concludere diciamo che una cosa che abbiamo sicuramente imparato è stato quello attraverso questa esperienza cioè fare per la prima volta una cosa almeno nella nostra azienda è quella di non confermarsi a un team locale ma assolutamente coinvolgere quindi quello global quello che noi definiamo global quindi fin dall'inizio questo avrebbe un pochino accelerato i tempi. L'altro è quella della perseveranza perché devo dire che col fatto che venivano richieste proprio per questa stesura delle linee guida continuamente prove centomila richieste venivano fatte dal famoso centro di eccellenza e anche qui insomma oltre che perseveranti diciamo siamo stati anche resilienti per usare un termine forse un po' abusato ma va sicuro che qui era veramente adeguato. E poi ecco un suggerimento che noi abbiamo dato proprio da questa esperienza al global è stato quello ma perché già all'inizio sapendo che comunque prima o poi qualcuno avrebbe deciso di fare un chatbot su facebook perché non avete voi già a livello globale di centro eccellenza ha creato una linea guida che poi noi testavamo cioè il pioniere avrebbe dovuto testare quindi abbiamo provato a dare questo suggerimento e poi vabbè niente noi con l'innovazione vogliamo e cerchiamo di essere sempre i primi all'avanguardia però insomma diciamo che essere apripista è decisamente sfidante ma anche diciamo da soddisfazione. Con questo noi abbiamo concluso la nostra piccola storia e rilasciamo la parola. Grazie